Tre figlie non bastano a Michelle Hunziker, decisa a diventare mamma per la quarta volta. Dopo Aurora, la primogenita 20enne nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, e le piccole sole celeste, avute nel 2013 e 2014 dall'attuale marito Tommaso Trussardi, lasciò gir l'annuncia in un'intervista a oggi di voler avere un altro bambino. Avessi dieci anni in meno, farei ancora almeno tre figli. Un altro, comunque vorremmo provare a farlo. Non mi piace l'idea di una mamma è troppo in là con l'età. Mi sono data ancora due o tre anni, poi basta. Se poco tempo fa Michelle smentiva l'annuncio di una quarta gravidanza, lei e Tommaso intendono riprovarci, non appena la più piccolina, celeste, sarà un po' cresciuta. Aspettare un po' è meglio anche per le bimbe. Sole ora si è tranquillizzata dopo l'arrivo di celeste, non è più gelosa. Ora quella gelosa è celeste. Quando anche lei avrà tre anni e si staccherà un po' dalla mamma, penseremo al fratellino. Arriverà finalmente un maschietto? Nell'intervista, Michelle Hunziker ha inoltre ricordato la figura del padre Rodolfo, scomparso nel 2001. La conduttrice lo aveva ricordato con un lungo post nel giorno della festa del papà. Oggi quando penso a lui sorrido, il dolore non è più lancinante come quando l'ho perso, a venti anni. Ma quando raggiungo un traguardo, nella vita o nel lavoro, mi viene la malinconia a non poterlo condividere con lui. Quel post è nato al parco, c'era un bambino che giocava con suo nonno, erano bellissimi. E ho realizzato che le mie figlie, come me, pur avendo due nonne meravigliose, Ineke Hunziker e Maria Luisa Trussardi, NDR, stanno crescendo senza nonni, perché anche il papà di Tommaso non c'è più. E mi sono un po' intristita. Se Rodolfo Hunziker è morto quando Michelle era ancora giovanissima, il suo compagno ha perso il padre Nicola Trussardi, imprenditore e stilista, morto in un incidente stradale il 13 aprile 1999. Per una triste coincidenza, solo quattro anni dopo è morto in uno scontro automobilistico anche Francesco, figlio 29enne di Nicola e fratello di Tommaso. Infine, la Hunziker ha parlato della sua carriera, spiegando di voler restare a striscia la notizia ancora per molto tempo. Nel suo futuro, non è previsto alcun passaggio su altre reti. Striscia il mio punto fermo. Lasciare Mediaset? Mai. Chi se ne frega.